Anima Festival Torna il Festival dell'Anima Una location unica a pochi chilometri da Cuneo Grandi emozioni, buona musica e artisti internazionali 28 giugno, Anastasia 5 luglio, Edoardo Bennato 10 luglio, Ermal Meta 12 luglio, Anna Oxa Biglietti in vendita con il circuito Ticket One Anima Festival Radio GRP, media partner del Festival